Con il via libera alle assunzioni di 90 infermieri all'Asli di Teramo annunciate dalla regione qualche giorno fa, resi ora possibili grazie allo sblocco della graduatoria a seguito dell'esame degli ultimi ricorsi respinti da parte dei giudici del Tar, si apre ora una nuova fase per l'azienda sanitaria locale. Una questione su cui intervenuto il segretario della UGL Salute Teramo Stefano Matteucci che esprime grande soddisfazione per la fine dei contenziosi che impedivano l'assunzione degli infermieri vincitori del concorso, indetto ricordiamo nel 2021 dalla locale Asli. Siamo estremamente soddisfatti finalmente dallo scioglimento di tutte le riserve di questa graduatoria che dall'anno scorso faceva un pochettino penare i poveri concorsisti. Diciamo che non entriamo nel merito dei ricorsi ma siamo contenti di questo passo della giustizia. Finalmente 90 persone entreranno a lavorare per merito grazie a un concorso pubblico svolto all'interno di questa Asli per rimpinguare un pochettino le carenze di organi. Ma ora per il sindacato il secondo obiettivo è quello di avviare il prima possibile le procedure per lo scorrimento delle graduatorie sia degli infermieri che degli OSS, applicando il tanto agognato accordo regionale del rapporto 1 a 1 con la stabilizzazione dei precari Covid, in modo da migliorare ancora di più la difficile problematica legata alla carenza di personale. Diciamo che sul piano dei fabbisogni triennali c'è una carenza di personale che auspichiamo insomma l'interessamento della regione dell'Asli per sbloccare queste graduatorie concorsuali e quindi procedere allo scorrimento delle stesse sia per gli OSS che per gli infermieri. La UGL Salute c'è, è sempre al fianco di tutti i lavoratori non solo della salute e della sanità pubblica ma anche di quella privata, stiamo facendo delle battaglie per cercare un pochettino di risollevare i risorti di queste strutture e piano piano i miglioramenti si iniziano a vedere.